Daniele Del Piano, fotografo ufficiale della manifestazione, grosso afflusso di persone, qual è la tua impressione? L'impressione è che comunque è un evento di rilievo, possiamo dire che i giovani prendono come spunto un punto di incontro, uguale al bar, per condividere le persone in comune con l'amore dello sport alla base.